I volontari ora si chiedono cosa succederà alla struttura, ma soprattutto ai gatti. Da qualche settimana il gattile dell'EMPA di Forlicesena, situato in zona Pieve Sestina, Cesena, è stato commissariato. Ancora ben poco chiare sono le ragioni che hanno spinto la Giunta ad avviare una simile procedura, si legge nel sito dell'EMPA Forlicesena. È stato quindi sciolto il consiglio direttivo del gattile presieduto da Mariangela Baiardi e nominato Leonardo Poli, e socio dell'EMPA di Meldola, commissario della struttura per sei mesi. Secondo le prime informazioni che arrivano dal coordinamento dell'EMPA regionale, pare che alla base del commissariamento ci sia un problema burocratico, ma gli atti ufficiali con tutte le spiegazioni arriveranno nei prossimi giorni. La sezione dell'EMPA di Forlicesena conta all'incirca su una cinquantina di volontari suddivisi tra gestione delle colonie di randaggio e gestione del gattile, organizzazione mercatini e organizzazione raccolta e cibo. Inoltre, i volontari si occupano dell'organizzazione di eventi per la raccolta fondi, visto che il Comune copre solo il 40-50% delle spese complessive. Le spese effettuate sono date da costi veterinari, da farmaci, cibo, da mantenimento della struttura, da materiali di pulizia, dal costo delle utenze, luce, acqua e gas. Solo nel 2015 sono stati raccolti mille gatti tra abbandonati, rinunce di proprietà, cuccioli e ammalati. Sono stati fatti adottare 360 gatti e sterilizzati 378 adulti.